Viene qua. Cioè fai il contrario dall'altra parte. Sì. Poi giri roti di braccio e questo viene qua. Stavo per dare un cazzotto in pazzo. No, non mi è chiaro dall'altra parte. Stavo per dare un pugno. Questa è facile. Questa qua, sempre chiusa la mano. E si viene qua. Si gira il braccio e si viene sulla spalla. Si viene a prendere questo qua fermo. Sì. Si gira il gomito e viene sulla spalla. Questa mi è più difficile. E' un passo di danza. Sto andando benissimo. Sto facendo tutto il possibile per non fare niente. No, allora. Questo è uno. Questo è il braccio e si gira. E si viene qua. No, è la mano. No, è la mano. Si deve far lavorare sempre questo lato qua. Non qua. Perché se non può essere la spalla. E poi si aumenta di velocità. Fino a trovarsi la spalla che si scioglie. E poi... Ho sentito crack crack. Cos'è? Com'è quello? Oddio. Ti giuro che ho sentito croc croc croc. Perché anche io me non lo so. Ormai siamo a livello dei coreani. E' che corto questo. E' corto. Dovete prendere un bastone. No, vabbè, certo. Giuseppe ha dei problemi... C'è da questa parte così. No, basta. Di qua. No, basta, basta. Perché... Sfermo. Ok. No, basta.